Analisi e previsioni sulla Toscana, dal territorio all'ambiente, dalla mobilità alle infrastrutture, i consiglieri regionali condividono le prospettive per il prossimo mese di settembre. Riapriremo con impegni altrettanto importanti, uno tra tutti il piano dei rifiuti che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione e a settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana a strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24 e quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. Sì, da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte, tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alle sanità, all'infrastruttura, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida, è una sfida che ci vede al governo a livello nazionale e siamo sicuri che tra due anni e mezzo ci troverà anche al governo di questa regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte, non solo in aula, in consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme perché veramente ci crediamo. Questa è la volta buona, noi siamo pronti, siamo uniti, abbiamo una strategicità veramente diversa di Toscana, siamo pronti insieme ai nostri ministri a dare un import diverso alle infrastrutture, un import diverso alle nostre aziende, a far sì che veramente la Toscana cambi passo per quello che merita. Poi ci attendono anche altre importanti iniziative, altri appuntamenti elettorali che sono quelli delle amministrative e degli europei. Il centrodestra è pronto veramente a battersi per questa regione, per tutti quei toscani che non credono più in un partito democratico, anzi in una maggioranza che forse non esiste più. Lo abbiamo visto ieri sulla legge di Tartufi, la divisione tra PD e Italia Viva, lo abbiamo visto anche dall'assenza di Italia Viva ieri durante il dibattito del piano regionale di sviluppo. Quindi noi saremmo anche pronti a non attendere il 2025 ma ad andare a votare nel 2024 perché i cittadini toscani meritano una maggioranza diversa. Le priorità pre-settembre per quanto ci riguarda spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato un proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la regione toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il Presidente Gianni ha parlato di godimento nel vedere partire la salpa dell'alta velocità a Firenze, la salpa doveva partire 17 anni fa. Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni e non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula, io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana, in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune A, dove c'è un segnale cellulare, o scegliere di comprare un comune B, dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle, che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza. Non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone, non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti alle altre grandi regioni del nord. E che ti avvicina purtroppo alle regioni del sud Italia, anziché competere con quelle del nord. E questo è un tema. Il Presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale e lo aspettiamo al VAR. Come no? Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta. Cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scelerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due o tre velocità, come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale, dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida, servirà a coraggio, servirà a capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Sicuramente a settembre, dopo anche due anni e mezzo, dal mio punto di vista occorrerà dare un'accelerazione su tante cose. Le dicevo prima, a cominciare appunto dai tanti temi che sono rimasti aperti sul tavolo. Sicuramente si aprirà con il piano dei rifiuti, ma sicuramente occorrerà intervenire anche su ciò che non ha funzionato rispetto alle modalità con cui si sono attuate le politiche regionali. Noi abbiamo ricorso all'indebitamento regionale per far fronte a degli investimenti che sono investimenti totalmente estemporanei, che sicuramente sono stati fatti in alcuni casi nell'ottica di salvaguardare i comuni, ma in molti altri casi noi abbiamo ricorso al debito, aggravando la situazione dell'ente senza una reale visione programmatica. Dal mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state le battaglie, che hanno dato anche dei risultati importanti. Penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza all'uvione. Penso alla sfida delle infrastrutture, penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocca un'opera strategica come quella del secondo ponte. Penso all'attenzione costante al tessuto produttivo, penso al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo piano regionale di sviluppo, alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione toscana, guardando sempre però all'interesse dei territori e dei cittadini, portando risultati cronchetti con un approccio che deve essere pragmatico, non narrazioni ma tanto tanto pragmatismo. Consegnato a Palazzo del Pegaso il gonfalone d'argento ai professori Paolo Ferragine e Giovanni Manzini, professori ordinari di algoritmi al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e primi italiani a vincere il prestigioso premio internazionale Paris Canalics Theory and Practice Award, attribuito per specifici risultati teorici che hanno avuto un impatto significativo e dimostrabile sulla pratica dell'informatica. hanno vinto questo premio per aver ideato l'FM Index, FM dalle loro iniziali. Si tratta di un indice compresso che supporta ricerche veloci nel testo, usando uno spazio molto più piccolo, un'innovazione straordinaria, non solo nel campo delle strutture di dati compressi, ma anche in biologia per il sequenziamento del DNA e nel campo delle malattie rare. Ma questo è un premio che viene dato alla voglia di crederci, alla voglia di riuscire a migliorare la vita delle persone. Il professor Ferragine, il professor Manzini, con la loro ricerca sono riusciti a trovare le condizioni per aiutare a sequenziare meglio il DNA. Un premio enorme per il nostro territorio, una sorta di premio Nobel dell'informatica che per la prima volta viene dato a degli italiani. E allora ho voluto, come Consiglio regionale, conferire il massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento, alla loro capacità di fare ricerca, alla loro capacità di anticipare il futuro. Questo è un premio che non va solo al professor Ferragina e al professor Manzini, ma a tutta la scuola informatica pisana per il grande contributo che ha portato avanti in questi ultimi decenni nella vita di ciascuno di noi. In Toscana abbiamo tra le migliori università che ci sono in Europa e nel mondo. Abbiamo docenti che sono sempre sulla frontiera dell'innovazione. Abbiamo la voglia e la capacità di guardare con speranza e ottimismo al futuro. Io, come il professor Manzini e il professor Ferragina, ho scelto di venire a vivere in Toscana perché la Toscana è il luogo delle opportunità, perché le nostre università consentono a tutti, anche grazie al sistema del diritto allo studio, di poter studiare e di potercela fare. Questa è una grande differenza tra noi e gli altri, una grande differenza da continuare a valorizzare, perché la Toscana è questo. La Toscana è una terra che sostiene chiunque vuole provare a farcela. La Toscana è una terra che non si volta mai dall'altra parte. L'idea è consistita nello sviluppare un algoritmo che consente di comprimere i dati, quindi ridurre lo spazio da questi occupato, e però consentire sempre di cercare su questi dati in maniera molto veloce. All'epoca, quando questa idea è stata proposta, non si credeva che ciò fosse possibile, invece noi abbiamo dimostrato che non solo era possibile, ma che poteva essere fatto in maniera molto efficiente. Da questo poi sono susseguiti una serie di risultati e di applicazioni che hanno riguardato non soltanto i motori di ricerca, ma soprattutto, ed è questa la motivazione dell'impatto, la genomica, la biologia computazionale, perché oggi queste tecniche vengono utilizzate sia per il sequenziamento del DNA che per la scoperta e l'analisi delle sequenze genomiche a ricerca di nuove malattie. Questo ovviamente è motivo di particolare orgoglio perché la città di Pisa e la regione toscana sono chiaramente la terra che ci ha ospitato, in quanto siamo arrivati a Pisa come studenti, io studente di informatica, Giovanni studente di matematica, io da Catanzaro, lui da Bologna, e quindi chiaramente siamo molto riconoscenti soprattutto per il premio che abbiamo ricevuto che appunto per noi è motivo di grande orgoglio e che appunto ci fa piacere poter ricevere oggi in regione e sia testimonianza dell'eccellenza della ricerca che si conduce all'Università di Pisa e in tutta la regione toscana in queste materie che sono all'avanguardia. Dunque, questo è un risultato che ha già avuto notevoli sviluppi nel senso che il nostro contributo è stato usato poi da altri ricercatori non appena è stato pubblicato il genoma umano diversi ricercatori hanno usato il nostro contributo per scrivere dei tool che permettono di cercare all'interno del genoma i geni magari responsabili di certe patologie o cose di questo tipo, cioè poter studiare il genoma. Adesso la nuova frontiera è lavorare con il cosiddetto pangenoma cioè non si lavora più con un singolo genoma di un singolo individuo ma per la ricerca di malattie rare ad esempio si lavora con tantissimi genomi, con migliaia di genomi e a questo punto il problema diventa ancora più complicato è ancora più importante avere dei strumenti per la ricerca efficiente in queste grandi collezioni di dati e il seguito della nostra ricerca sta lavorando sempre in questa direzione per permettere appunto dei risultati ancora più forti per curare addirittura cercare cure anche per le malattie più rare che si verificano soltanto in pochi individui della popolazione. Per me questo premio è importante perché è il segnale che anch'io sto contribuendo in qualche modo a questa bellissima comunità della Toscana anch'io ho dato qualcosa anch'io sto cominciando a restituire un po' di tutte le cose che la comunità Toscana mi ha dato in questi anni cioè io vivevo qui dall'età di 19 anni mi sono sempre trovato benissimo penso che sia un posto di persone bravissime e sono molto contento di poter ridare anch'io qualcosa. Grazie a tutti